E' appena uscito l'iPhone 13 ma già si sta parlando tantissimo di iPhone 14, scopriamolo in questo video. E stavolta ragazzi e buoni in questo super nuovo video, io sono Frank e bentornati sul mio canale. Qualche giorno fa è uscito il nuovo iPhone 13. E ragazzi la cosa più bella è che già da una settimana prima dell'uscita dell'iPhone 13 si stava parlando di iPhone 14. Sono usciti in rete tantissimi foto e render di questo iPhone 14. Ovviamente non è nulla di ufficiale ma sono semplicemente render. Però il punto non è cosa ma è da chi. I render sono stati messi in rete da un certo John Prosser che è un leaker che negli anni si è diciamo ritenuto affidabile. Per dirvi lui lanciò i render all'epoca di Apple Watch 7, ha indovinato, di AirPods Max e di iPhone 12. Quindi ha una certa credibilità. E per causa sua tantissimi ma davvero tantissimi acquirenti fan di Apple sono proprio davvero arrabbiati. Perché non puoi pubblicare una settimana prima, render probabilmente saranno quasi simili al prodotto finale, una settimana prima che esce il nuovo iPhone 13. Che comunque già iPhone 13 era una nota dolente per molti fan della mela. Perché a livello di design è rimasto quasi invariato dal 12. Beh quindi ragazzi dopo avervi dato queste piccole notizie, questa piccola introduzione, io direi di andare a guardare l'iPhone. Ed ecco l'iPhone 14. Beh ragazzi ci ricorda a primo impatto molto un iPhone 4. Anche io sono stato possessore di iPhone 4 ormai tanto ma tantissimo tempo fa. Che fra l'altro ragazzi io ho comprato da poco un iPhone 12 Pro. E è uscito un iPhone 13 e già stanno mettendo foto di un iPhone 14. Io quindi mi trovo proprio triggerato per non dire scammato. A parte gli scherzi. Prima cosa che risalta all'occhio è questo stile per l'appunto all'iPhone 4. Quindi praticamente il bordo del telefono si divide in tre zone diviso tre. Quindi abbiamo la zona centrale d'alluminio dove ci sono i tasti rotondi. A differenza di quelli rettangolari che abbiamo oggi sugli iPhone. Parte inferiore vetro e parte superiore vetro del monitor. Per il resto sul bordo non ci sono altre novità. E probabilmente si prospetta che come materiale si utilizzi il titaneo. Come già stanno utilizzando in Apple Watch 7 nella configurazione più costosa. Quindi per quanto possa riguardare magari materiali. Niente male. Beh design così mi piace. Ok richiami l'iPhone 4. Ci sta. C'è un ritorno dal passato. Quindi sì mi piace. Cosa che subito ci dà l'occhio e che tanto sta a discutere è la mancanza del notch. Per chi non sapesse cosa sia il notch non è altro che quella lunetta, quella parte superiore nera dove ci sono tutti i sensori e le fotocamere. In iPhone 13 già l'hanno ridimensionata quindi rimpicciolita. In iPhone 14 probabilmente scomparirà lasciando spazio a una videocamera. I sensori probabilmente utilizzeranno nuove tecnologie, ridimensioneranno anche loro e magari li nasconderanno. E invece il Face ID si sposta nella parte inferiore. Tutto questo lascia al telefono maggior schermo. Quindi ragazzi cosa che io adoro praticamente. Avere tutto schermo. E immagino che pochi mesi dopo l'uscita tutti quanti all'improvviso. Pof. Display tutto schermo. Altra novità che probabilmente avrà questo iPhone 14 come potete vedere è la videocamera rientrata. Quindi una videocamera a filo schermo. Gli iPhone di oggi hanno un bello spessore sulle videocamere cosa che io non ho mai ma mai adorato. Probabilmente lo spessore dell'obiettivo era dato dalle prestazioni. Forse avranno dato un compromesso per far rientrare tutto in pochi millimetri di spessore. Poi ragazzi la cosa più bella di avere un telefono liscio è che quando lo poggi non fa quello scalino sbilanciato che è bruttissimo. Vabbè piccoli dettagli però ci sta. Parlando sempre di fotocamere probabilmente questa tipologia di fotocamere verrà adottato solo sul Pro e sul Pro Max. Quindi non su iPhone 14 normale liscio. E molto probabilmente dall'anno prossimo quindi dal 14 in poi rimuoveranno dal loro catalogo il mini. Quindi tutte le sigle tutti gli iPhone mini. Beh come scelta probabilmente è sensata anche perché io personalmente non spenderei mai quella cifra per un telefono comunque ridimensionato. Piccolo quando in futuro probabilmente si andrà a passare sempre di più a schermi più grandi. Sia perché un telefono può essere utilizzato come smartphone, come videocamera, come attrezzatura da lavoro. Quindi ragazzi uno schermo grande e importante. E probabilmente abbracciava una fascia di acquirenti bassa. Talmente bassa da doverlo rimuovere dal commercio. Ma ripeto questi probabilmente sono solo pensieri miei. Ma parliamo anche di probabili caratteristiche di queste fotocamere. Quindi di questi obiettivi. Si è parlato di 12 megapixel attuali addirittura ai futuri 48 megapixel. Quindi iPhone 14 probabilmente porterà un obiettivo 48 megapixel che ci consentirà anche di registrare video in 8K. Ma magari, ma magari. Quindi renderemo anche l'8K più alla portata di tutti. Quindi boh non so riesco ad immaginare anche un futuro dove su YouTube video 8K probabilmente molto più accessibile. Non so mi da quest'idea qui. Fra l'altro già si inizia a parlare delle 4 probabili colorazioni in cui uscirà questo iPhone 14. Quindi un nero, un oro rosé, un verde e un bianco. Chi lo sa se realmente saranno solo queste 4 colorazioni o magari ci saranno più colori. Io per esempio adoro quando Apple vado ad utilizzare tutti quei colori particolari. Come il viola, il rosso, il giallo. Cioè a me piace. Probabilmente ci saranno dei costi extra all'Apple per creare tante linee o tante scocche di tanti colori diversi. E quindi immagino per questo che nei Lake non sono usciti a diverse colorazioni. Ma magari, chi lo sa, se un giorno implementeranno tanti colori diversi nelle loro linee di produzione per iPhone. Ma magari. Poi un'ultima cosa, una piccola analisi, è che probabilmente, visto che si stava parlando molto di rimuovere il cavo Lightning, quindi magari di carica tramite MagSafe o NFC, state tranquilli che all'80-90% rimarrà invarato. Quindi vi potete tenere ancora stretti i vostri cavi. Bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Magari lasciatemi sotto i vostri commenti cosa ne pensate del nuovo iPhone, del nuovo probabile iPhone. Se avete acquistato il 13 e che telefono avete. Io spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, andate a fare una camminata sui miei social e al prossimo video. Ciao!